Dopo anni di oppressione siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà, perché io sono troppo libero. La libertà, questa dimensione umana per la quale l'uomo ha versato fiumi di sangue, basti pensare alle due guerre mondiali del XX secolo, questa dimensione così importante dell'essere umano che in qualche modo dà vita alle nostre costituzioni, alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Oggi parliamo proprio di questo tema sotto uno dei simboli della libertà bolognese, il patriota del risorgimento, anche il sacerdote Ugo Bassi, che per la libertà ha versato il proprio sangue e la libertà, come ci dice Bassi, è sempre di là, dritto. Signora, secondo lei cos'è la libertà? Oggi non abbiamo invasori dentro o fuori dalle nostre porte, eppure siamo davvero più liberi di prima, sì perché oggi è anche la percezione della libertà che ha cambiato le nostre vite, basti pensare anche alla preposizione articolata, innanzitutto liberi da o per, già vedete che cambia l'ottica, la specie sotto cui la lente, sotto cui guardiamo questa dimensione. Siamo però condizionati da mille elementi, siamo iperconnessi, c'è anche una libertà virtuale oltre a quella reale che in qualche modo cambia le nostre vite. Allora cerchiamo di scoprire se davvero siamo più liberi di prima e che cos'è oggi per noi, la libertà. Volevo chiedere, secondo lei cos'è la libertà oggi? La libertà fino a un certo punto, diciamo così, bisogna sempre dire la libertà di una volta, quella di adesso che non è libertà, cioè ecco, quella di adesso è una dittatura, perché c'è la parte di quelle che le forze politiche non capiscono un cazzo. Gli uomini pensano sempre di essere più liberi rispetto al passato, in realtà è semplicemente perché guadagnano libertà rispetto ad alcune cose che c'erano prima e, come dire, si affrontano nuovi limiti, nuove cose che prima non venivano neanche prese in considerazione. Noi oggi ci riteniamo, per esempio, più liberi da alcune costruzioni sociali, ma ne abbiamo introdotte delle altre. Ci fanno meno paura alcuni fenomeni perché siamo in grado di spiegarli, nel frattempo la scienza, diciamo così, ce li ha resi comprensibili, però ne sono subentrati altri che continuiamo a non capire. Quindi, in realtà, l'uomo è sempre libero fino a un certo punto, è libero fino al punto in cui lui è in grado di non farsi condizionare da ciò che gli sta intorno. questo non nel senso di fare quello che vuole, perché questo non è possibile, ma nel senso di poter decidere come comportarsi a seconda dell'analisi che fa, dei problemi che incontra e delle limitazioni, delle contingenze che ha intorno. L'uomo libero è quello che riesce ad agire in questo modo. e non sanno cosa vuol dire i sacrifici. Tutto sommato abbiamo la libertà e la possibilità di fare ciò che vogliamo perché c'è maggiore consapevolezza delle nostre capacità, anche se in realtà la nostra libertà è condizionata dal giudizio degli altri, perché comunque sui social c'è sempre una ricerca di approvazione e quindi bisogna avere l'intelligenza di superare questo limite che è l'approvazione degli altri per tirare fuori quello che siamo perché il mondo, soprattutto grazie a internet, ci offre la possibilità di approfondire tutto ciò che vogliamo e tutto ciò che vogliamo essere. La libertà è un dono di Dio, la libera di Dio che ci rende liberi secondo me, ci ha recreati liberi. La libertà secondo me la gente non guarda più alla libertà ma se la prende la libertà, perché oramai ognuno fa quello che vuole fergandosene degli altri e tutto è lecito un po' per tutti. La libertà per me è molto difficile questo perché noi non abbiamo la libertà dove io sono. Dove vieni? Da? Da Barcellona. Dunque la libertà è poter fare quello che vuoi, poter decidere quello che noi vogliamo fare, ma questo non è possibile là, quindi noi non abbiamo libertà. Oggi secondo voi il cellulare rende più liberi o più schiavi? Più schiavi, più schiavi, quello è senz'altro. Infatti lei la prima cosa che si fa è sempre controllo il cellulare, invece prima non era così, prima te parlavi, si discuteva, invece adesso più il cellulare. Adesso io ho dimenticato il cellulare, ma di andare al cellulare condiziona tantissimo. Io ho fatto un campo con i ragazzi e gli toglievamo il cellulare e tutti lo stavamo solo la sera, la notte, ma era un grosso sacrificio per loro. E poi delle cose, se ci sono i soldi si fanno, se i soldi non ci sono, non si fa, non si fa, ecco. Secondo me siamo più liberi oggi rispetto ai nostri padri, però sono due società completamente diverse, ma nell'apparenza siamo tutti più liberi di essere vestiti diversi, di comportarci, insomma c'è più, fra virgolette, più libertà. Poi non so esattamente se è una cosa solo apparente oppure se veramente sostanziale. Queste persone sì che avevano un alto concetto del valore della libertà? Eh lo so, non ce n'è più. Morte questa? Morte la libertà? No. È la storia. E il presente invece cosa dici? La storia. Secondo me i giovani darebbero ancora la vita per la libertà? Derebbero la vita? Là? No. Era un po' difficile là. Nella Certosa si trova il monumento ossario ai caduti partigiani. E in cima una scritta, per tre volte, ripete, liberi salgono nel cielo della gloria. Al suo interno sono ospitate diversi e decine di partigiani che hanno lottato proprio per la libertà d'Italia e perché dopo l'oppressione del fascismo nascesse una democrazia. Tra i tanti viene ricordato un eroe che non riposa più qui perché il corpo è andato disperso dopo che fu fucilato dai nazisti. È quello di Mario Iacchia. Già nella Grande Guerra si era distinto talmente tanto come eroe che aveva ricevuto due medaglie d'argento e una di bronzo. Sarà poi molto attivo politicamente a Bologna insieme a suo padre. Tutti e due erano nazionalisti, noi oggi diremmo di destra. Erano a favore dell'unità d'Italia. Suo padre era stato cacciato da Trieste proprio per le sue idee irredentiste. E furono tra i primi a Bologna a iscriversi anche al partito fascista. Già dal 1924 l'intera famiglia subì le violenze dei fascisti. Prima perché erano massoni e poi perché erano di origine ebree. Suo fratello Luigi venne più volte bastonato dai fascisti perché era uno socialista. Suo padre si ritrovò una bara davanti a casa con i cimeli della massoneria presi dalla sede. Lo stesso Mario subì l'incendio del proprio studio. Dopo tutta questa serie di violenze decise di passare alla lotta antifascista e divenne l'organizzatore di tutto il sistema di battaglia partigiana dell'Emilia Romagna e il contatto tra Bologna e Milano. Venne catturato, riuscì a fare scappare i suoi compagni, tentò di bruciare i documenti, fu torturato, non disse mai nulla e proprio per questo venne torturato in maniera brutale. Dopodiché, si sa solo, nella zona di Parma venne fucilato e ucciso. Pidiamo quelle che viene e si spera che... Un po' più di libertà c'è. Il problema è che mancano le prospettive del futuro, questa libertà manca, cioè di dire io nel futuro farò questo oppure farò quello. Perché mancano, purtroppo il mondo è cambiato e non in meglio. Però all'apparenza sembriamo più liberi, sì, sì, sì. Oh, terzo, gentilissimo ed amatissimo pubblico, ecco il dottor Balanzan, il dottor Balanzone, che viene a voi con una grossa novità. E abbiamo ospite quest'oggi, venuto dalla capitale, niente meno che Rugantino, il borgataro e dramma di Roma. Oh, la saluto, sor dottor Balanzone, e come sta? Oggi parliamo di libertà. Chiede la libertà, mo te lo spiego, diceva me ne piglio e me ne frego. La libertà di un popolo è compagna all'acqua che vi è giù dalla montagna. Se la lasci passata dove gli pare, se spreca negli fiumi fino al mare. Ma se c'è chi la guida e la riduce e l'incanala verso l'officina, appena arriva smuove la turbina, diventa forza e si trasforma in luce. Signore, voi vi sentite davvero libere? Che bella domanda, da un milione di dollari. Si è più libertà oggi o c'è più libertà un tempo? No, c'è più libertà oggi. Libertà da o per? Vabbè, qui andiamo un po' nel difficile. E' loro che dicono le tasse, le tasse di qua e di là, sono loro i primi lati. Vengono a controllare un pensionato che prende 800 euro. Il football americano, la squadra in cui gioca, dà libertà? Sì, abbastanza. Di fracassare le ossa agli avversari? Sì, esatto. No, beh, la libertà comunque è quella di poter giocare, divertirsi, ti senti completamente libero, non pensi a niente quando sei lì, però devi stare attento perché sennò ti frantrummi le ossa. Possiamo dire che lei è libero di disegnare il Nettuno? Sì, sì, però dica pur lei. No, no, dica lei, cioè nel senso che lei sta disegnando il Nettuno, quindi secondo lei la libertà è disegnare anche il Nettuno. Mi interessa la sua domanda, la libertà è legata a che cosa? Quindi a una possibilità della persona di esprimere? Sì, sì, come concetto, come valore universale. Sì, certamente. Se si sente più libero prima, oggi, se secondo lei c'è più libertà oggi rispetto... L'arte dà libertà, perché quando non è imposto un dog, tu non puoi disegnare quello, allora non è più libertà, cioè, secondo me... Ma vuol dire una cosa signore? Grazie comunque. Vuol dire una cosa su che argomenti? Io sono spagnolo, io sono spagnolo, mi piace molto il passeo, però lo che osservo è che se abbandonano gli politici in le zone turistiche... E ayer por la tarda le robaron a mia moglie in la torre di Pisa su móvil, no? Quindi è una cosa che si non si tratta la bocca o si tratta la bocca a tutti i politici, di che questo, di che il tal, di che questa lei, saco questa lei, di che non si che... E poi non c'era più che due polici in tutta la plazia di Pisa, mille di persone per la plazia, e si aprovechan di che quando stai tirando una foto, vieni e ti robano, no? Quindi è molto doloroso, no? La polizia qui? Si, no, no, la polizia qui, in Pisa, in Pisa, in Pisa, in Pisa, in Pisa. Quindi, ti vai a casa, ti vai a la Spagna con un mal sabor di bocca, come diciamo, no? È molto triste, e non ponen soluzione, non ponen soluzione, no? No, 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 non hai avuto polizia. Eso sì, esistì un furgò, denuncia e tal, però niente, niente polizia, niente polizia. La libertà, grazie, grazie, muchas grazie. la libertà dunque è anche parlare di Pisa quando domanda dei problemi di sicurezza di Pia quando domanda un'altra però qui a Bologna invece la sicurezza c'è e questo dà libertà al turista spagnolo Grazie a tutti